Noi siamo un cammino, grazie di aver fatto una parte di questo cammino insieme a noi, tra luci e buio e giorno e notte, ieri, oggi e forse domani ci ritroviamo da qualche parte del cammino, magari in un altro posto, in un altro tempo, ma sicuramente in un bel ricordo. Grazie veramente per essere stati con noi, vogliamo diventare tutti più operosi, operai nella nostra opera, che è una storia bellissima e è la vita di ognuno di noi. Grazie! Buonanotte! Buon giorno che dobbiamo chiudere. Fate dei sogni magnifici. Buon giorno che dobbiamo chiudere. Buon giorno che dobbiamo chiudere. Più di bene, Giorgio. Non andiamo in parte. Beh, non ci scordate troppo presto, anche se viaggiamo sentiamo via, perché in fondo siamo tutti acqua. Grazie! Fate il buon viaggio della vita. Grazie a tutti.